Il culto delle reliquie della passione tra storia e fede. Nell'anno del perdono, indetto in occasione del giubileo straordinario della diocesi di Andrea, quello sulle vestigia passionis rappresenta un convegno importante, poiché la sacra spina è una testimonianza che dal secolo XIV illumina e accompagna la vita della comunità. Il convegno si è aperto ieri con gli interventi del professor Gian Maria Zaccone, direttore scientifico del Museo della Sindone di Torino, il quale ha illustrato l'origine e il culto delle reliquie della passione. In questo sviluppo, che è uno sviluppo fondamentale della pietà cristiana, ma che va anche al cuore, al centro del credo cristiano, il ruolo che hanno avuto queste reliquie, indipendentemente da quella che poi poteva essere la loro origine. Come diceva il cardinal Baronio, che la sua preoccupazione non era tanto sull'origine, quanto di scoprire come potevano essere porte per l'ingresso della grazia. La Sindone dunque è una testimonianza della fede, quindi interroga la storia. Così Monsignor Giuseppe Ghiberti, biblista e presidente emerito della Commissione Diocesana per la Sindone. Sa più cose la Sindone di quante ne sappia la storia. La storia è da un certo momento in avanti, la Sindone invece dà a chi si affaccia su di essa la possibilità di un rapporto immediato, un rapporto di interesse religioso, di devozione, pre-scientifico come rapporto, perché prima ancora di avere affrontato domande che vengono spontanee, c'è questa constatazione della corrispondenza tra la storia della Sindone e la storia di Gesù. C'è un gemellaggio tra la diocesi di Andere e quella della Cattedrale di Lepui, con il dono delle sacrespine di San Luigi IX. Analogie e differenze sono state illustrate da Monsignor Emanuele Gobillard, parroco della Cattedrale di Lepui. Abbiamo questa coincidenza delle date del 25 marzo e del venerdì santo, abbiamo un giubileo, abbiamo molte cose in comune, abbiamo anche delle differenze e per questo lo spiegherò. Non è lo stesso rapporto tra il giubileo e la sacrespina a Lepui e a Andria. A Andria la sacrespina è quasi il punto di partenza di un giubileo, per noi è piuttosto una conferma di un giubileo che è stato celebrato dal XII secolo, dunque molto più anziano, dalla nascita di San Luigi stesso. Il convegno continuerà anche oggi con la discussione sul significato delle reliquie e le origini del culto.